La Marcuzzi diventa la protagonista in prima battuta, in primo piano, più umidissima che mai, la bella showgirl, è diventata un cartone animato di recente, agitando i suoi followers attraverso i followers, una canzone che è quella che vi ricordo è appartenente a Mario Cyrus, o Mio Resilio, se vi si voglia, e che sta ottenendo un successo cramoroso su internet. E così, con un filtro grafico davvero divertente, la donna in questione è diventata un cartone animale, davanti allo specchio, mentre si truccava, poi per la strada, mentre passeggiava, il tormentone viene appressato in più, adesso si ha compito un post sul suo profilo, riportando una frase della canzone, But Then Remember I, che tradotto in italiano significa, ma poi ricordo a me stessa, sarà un caso, non sarà un caso, sarà una situazione reale, reale, sta di fatto che comunque, il post in questione, con audio originale, ottiene un successo cramoroso, più di 5.400 circa, i like, o meglio mi piace, raccolti, va bene? E sembra che attualmente, parlando proprio da bravo e bello e simpatica di Alessia Marcucci, sta vivendo un momento abbastanza gioioso e giocoso dal punto di vista del lavoro, infatti, sembra che, bumerissimo, il programma di revisione che conduce, sta dando dei buoni ascolti, non sono ascolti del tutto negativi, anzi, sembra che il programma in questione piaccia. Chissà se ci sarà un'eventuale edizione numero 2, in un prossimo futuro, sta di fatto che ripeto un momento, il programma in questione, bumerissimo, non sta tradendo le aspettative, e la fiducia di Alessia Marcucci da parte della RAI, sembra essere ormai conclamata. C'è stato l'addio, o meglio, non si sa, non voglio essere uno drastico, però, attualmente parlando, a Meizia, non si vede, Alessia, che attualmente è in militare della RAI, e continui a condurre il programma in questione, bumerissimo. Ok? Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione, il video terminato, iscrivetevi i commentari, ciao da Erano, nanatolitanino. Grazie. Grazie.